Il WWF e il Comune di Fiumicino hanno rinnovato l'accordo per la conservazione e la gestione delle osi Macchia Grande, Vasca di Maccarese e Bosco Foce dell'Arrone. Sono certamente tra i migliori esempi che la nostra associazione possa offrire ai cittadini, dichiara Francesco Marcone, direttore delle osi WWF del Litorale Romano. L'impegno per la conservazione di queste aree è per noi una priorità. Attraverso il contributo del Comune, il WWF potrà continuare a garantire la difesa di questo straordinario patrimonio naturale da minacce come il degrado, il rischio di incendi o il bracconaggio. Alla cittadinanza sarà offerta un'agevolazione speciale attraverso l'accesso gratuito per i residenti nelle giornate dedicate all'apertura al pubblico e una serie di visite guidate per le scuole di Fiumicino. Buone notizie anche per il Decimo Municipio. L'amministrazione ha annunciato la costituzione di un osservatorio per l'ambiente. Auspichiamo, ha dichiarato Andrea Gasparini di Tutors della Riserva, una rapida realizzazione di questo importante strumento che ha diverse finalità, tra le quali il monitoraggio delle pinete, del degrado e dell'inquinamento.